Sentite un attimo, se vinci 40 miliardi, ascoltate questo eh! Dove? Un giro per il mondo. Ho capito, fin di esaurimento? No, investirei e un po' me la pagherei. Ho capito, vediamo anche l'altra signora che cosa ne pensa? Si, sicura i tapparenti e amici. In beneficenza qualcosa anche? Anche si. Ho capito, è una telecamera per Roberto, gliela comprerebbe nuova? No. Come mai? No, perché? Perché ce l'ha già? Quella che ha, eh sì, non vale la pena, no, no. Ma per rimodernarci un attimino, per avere una telecamera un attimino più competitiva. Non ho abbastanza soldi, non ho abbastanza, non mi basta. Sentiamo, sentiamo. Grazie a tutti. Ma la prima più una cupola mai. Niente da fare, non ci vogliono. Sentite il piccolino, sentite il piccolino eh! Con i 40 miliardi e su per il nalotto. Via le giostre, ha le giostre. Su le giostre. Su le giostre. Su le giostre, avete sentito? Questo qua ha 26 anni. Niente, chiudo qua questo servizio. Eccolo qua, chiudiamo qua.